Torrenova vende cara la pelle al palacremonesi di Crema, ma nei minuti finali l'esperienza e le rotazioni più lunghe dei padroni di casa fanno la differenza e la Fidelia viene battuta 69-64. In avvio Crema prova a scappare, facendo valere i centimetri sotto canestro, ma Torrenova si sblocca con Ferrarotto, Klanskis e Bolletta. La gara è in sostanziale parità, con gli ospiti che chiudono sul più due il primo tempo con due punti di gloria. In avvio terzo quarto il punteggio è ancora sul 41 pari, quando Drocher e Pedersini fanno scappare Crema al più 10. La Fidelia però non vuole saperne di mollare, con Di Viccaro, Gloria e Galipò torna a sole due lunghezze di distanza in avvio di ultimo quarto. Lasagni e Galipò ci provano fino alla fine, ma Del Sorbo e la tripla di Arrigoni chiudono di fatto il match. Nel resto del girone B1 non si ferma la cavalcata di Agrigento, che batte Bologna 89-77 e resta in testa alla classifica a quota 20 punti. Vince anche l'inseguitrice Bernareggio, che supera la San Giorgese 81-66. Ancora una sconfitta per il Green Basket Palermo, che cade al Palapadua per 74-57 nel derby contro la Virtus Club Ragusa. La formazione di coach Condello, reduce da tre sconfitte di fila, avrà ora la sfida più complicata per provare a tornare a vincere. Domenica 28 febbraio al Palatorre arriverà la capolista Agrigento.